Allora, io e Aurelio qui eravamo preoccupati perché c'è stata un'aggressione, mani in faccia, cose, insulti, sputi, bottigliate di vino sfuso di velletri in faccia all'allenatore, cioè, che è successo? Non ce le sono mandate a dire. Ma chi? Chi? Allora, potete, cioè, quello si è incazzato. Ma quello chi è? Cerci. Ah, tutto sto casino peccicci? Eh! Mi pare chissà che era successo. Quelli, tu sai, che ha fatto entrare la scorsa, quando è stato, mi faccavano tre minuti da... Sì, che la donna ha twittato, non ti permettere, sei un sozzo, sei un... Quello era piata male, in uno spogliatoio, ha detto, oh, babbo, io la vadovo, eh. Quello chissà che è reagito, insomma. Ma così parla quella? Oh, babbo, babbo, così. Ma lo so, quando sarà tirato. Ha parlato in dialetto velletrano? No, forse va al montonese, non lo so. Pure? No, lo so, no, no. Ma non sa che comunque se ne è adottato di questa cosa? Eh, in zaga che ha detto. In zaga vuol dire se ne è adottato? Vabbè, significherà, insomma, che, no, qualcosa, adombrato, tipo, se... Sei incazzato. Sei incazzato, eh. Perché parla, parla bene, che il popolino qua non capisce. Non dare del popolino ai nostri ascoltatori. No, no, ma io stesso, ma io stesso non ho capito, quindi c'è neanche... Vabbè, che tu non capisca che questo sia normale. Vabbè, insomma, come è andato a finire? Andato a finire è quello, cioè, ci si è scagnato contro il Davide. No, vedi, l'ho venuto qui perché... Tu mi avevi detto sotto e sopra, mette piglio io, sotto e sopra... Ma gli aveva detto mette piglio io, sotto e sopra... Mette piglio io, sotto e sopra, è quello... Ha ceduto. E quello, prego, adesso vediamolo. Lanciamo un commento. Lanciamo un commento. Allora, chi di voi riconosce questa frase che noi adesso rifacciamo? Che noi adesso rifacciamo. Eh, allora... Vai. Mi sono fatto bene, mette piglio io, sotto e sopra, è quello... Ha ceduto. Ecco. Chi riconosce questa frase avrà in premio... Che cosa? Che gli danno? Una colazione. Una colazione con Andrea Zoli? No, una colazione con me e te. Ah, va bene. Che pagheremo noi? Certo. Ah, va bene. Pagheremo noi. Se è una ragazza, avrà diritto anche una pizza pagata. In faccia, da quella, secondo me. Ma perché devi... Eh, ma perché tu stai a fare il marpione, stai a fare il provolone, stai a fare... La pizza e tu... Stai a fare lo stronzo. Ma ti cazzi tua, scusa? Ah, sì. Ma io, senti, ora ti attacco in faccia, capito? Ti sei lo scosto umano. Un cazzo niente. Io ti commento non lì. Se mi rompi pure i coni... Allora, un cazzo niente. Chi l'ha detto pure? Stiamo dando tutti input, stiamo dando, eh. Non è che ci stiamo... Non me ne frega, un cazzo niente. Un po'... Tornando alla cosa. Sì. Sì, va bene. Cerci si è scagliato contro... Contro... Ok, basta. Sono quasi venuti alle mani. È dovuto intervenire Gagliani... La polizia. A Gagliani. Per prepararli. E poi, ovviamente, state messi un comunicato in circostanze. Io non è successo niente. Non è successo niente. Stetti la mano. Però... Solo che ha stretto forte. Vabbè, vabbè. Dove va questo? E stanno problemi. Vabbè, comunque... Comunque, alla fine... Alla fine, sai che c'è? Questo gioca solo con Ventura. Quindi, arrivate nell'Aventura. Fa il piacere. Lascia sta, insomma, le squadre che devono puntare a grandi traguardi. Perché è evidente che tu sei adatto, insomma, a questi traguardi. Ma io, questo, tu lo dici. Eh, lo dico, lo dico nei fatti. Io ce l'avevo fatta a calcio. Eh, ho capito. Con la Roma non è in sé fermo. Certo, mi ha fatto perdere il campionato facendomi arrivare al secondo. Quando ha sbagliato il rigore nell'ultima giornata. Eh, vabbè, quindi... Se insegnava. Quindi non solo non vincite, ma manco gli altri fai vincere. Quindi, per cortesia, stai in panchina buona. Quando è un momento dove lo ti chiama, e dì alla ragazza tua che non manda i tweet. Perché questa è gente che deve lavorare. Cioè, non c'è tempo da perdere sui tweet. Ok? Molto bene. Arrivederci. Stato e bello. Ciao.